siamo a folgaria ho trovato qui una cosa stupenda c'è un cespuglio di questi fiori bianchi è pieno 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 di api api che lavorano stanno raccogliendo il miele il polline che serve per il miele ecco vedete vedete che ce n'è una qui ce ne sono tantissime stanno arrivando per raccogliere il miele spero che non mi pungano anche ecco vedete come come lavorano lavorano e raccolgono il miele lo portano portano il polline nell'alveare e lì viene trasformato in un nettare lo chiamiamo il miele che serve per la colazione serve vedete la grandezza della natura e di chi ha pensato tutte queste cose allora ringraziamo il signore per questo dono del miele e delle api ecco sì tanto mi sposto per vedere un po anche questa balconata di fiori questa casa bellissima ecco vediamo tutto il verde tutto il paesaggio faccio proprio un giro un giro attorno vediamo sempre queste montagne ricordo che siamo a 1280 metri di altitudine e qui ecco siamo si vede già il santuario il santuario che abbiamo appena visitato insieme all'amico agostino si chiama il santuario della madonna delle grazie ecco vediamo tutto il panorama e vi salutiamo da questo luogo e da questa natura veramente stupenda che ci fa pensare a colui che che ci ha donato tutte queste cose buona giornata a voi grazie a tutti